Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair No, questo lo spegniamo Che fa rumore Oggi voglio parlare con voi di un argomento che prima d'ora non avevo mai trattato O meglio, avevo trattato soltanto quella marginalmente Ovvero i prodotti beauty che possiamo acquistare in farmacia La farmacia ha una vastissima scelta di prodotti cosmetici Ci sono un sacco di brand che possono essere reperiti soltanto in farmacia Come Nuxe, Caudalie, Vichia, Veneri, La Steel, Bioderma Insomma, ce ne sono veramente tantissimi Ma ci sono anche brand un pochettino più sconosciuti Che secondo me hanno dei prodotti nella loro gamma Che sono veramente utili Alcuni sono un po' più divertenti, un po' più interessanti Come le vere e proprie creme, i trattamenti di skin care Altri un pochettino più noiosi Come magari, non lo so, i cerottini per le vesciche Oppure il balsamo per le irritazioni Però secondo me sono tutti prodotti che vale davvero la pena avere O comunque la pena di provare nel caso in cui possano fare al caso vostro Molto spesso si tratta di prodotti che secondo me hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo E che non sono così costosi come quelli che possiamo acquistare in profumeria ad esempio Ma che non hanno nulla a che invidiare loro Vi lascio al video, vi aspetto tutti a braccio aperto sul mio profilo Instagram Giovanna Lovison E nulla, mettetevi comodi perché abbiamo davvero un sacco di prodotti di cui parlare Ho due premessine piccine picciò da fare prima di cominciare La prima che per me è una regola fondamentale Che riguarda non soltanto questo video Ma qualsiasi altro video contenuto io posso produrre È che non parleremo assolutamente di farmaci o parafarmaci Quelli sono prodotti che non devono di certo essere consigliati da una youtuber O da qualcuno che non se ne intende, che non è del mestiere A quello ci pensano i medici e ci pensano i farmacisti Non di certo io Quindi non parleremo di farmaci ma soltanto di cosmetici La seconda premessa è un remind più che altro Perché è una cosa della quale abbiamo già parlato più volte I cosmeceutici non esistono Con il termine cosmeceutici il mondo del marketing cerca di farci intendere Che i prodotti cosmetici che possiamo acquistare in farmacia Prodotti di La Roche-Posay, di Avene, di brand similari Ma giù soltanto per citarne due Siano migliori di quelli cosmetici che acquistiamo in farmacia Perché si fa intendere che contengono delle proprietà curative Delle proprietà benefiche migliori Che li rendono più simili al farmaco che al cosmetico Ecco, questa cosa non esiste Per normativa il confine tra farmaco e cosmetico È il fatto che il cosmetico esaurisca il suo lavoro Il suo effetto sullo strato più esterno dell'epidermide E non possa in nessun modo intaccare gli strati sottostanti Essere assorbito dall'organismo Entrare nel flusso sanguigno E non possa alterare o curare in modo permanente L'aspetto della pelle Mentre i farmaci ovviamente hanno questo potere Ci sono delle piccole postille da fare Per quanto riguarda le protezioni solari Perché in passato ci sono stati studi Che hanno evidenziato come alcuni principi attivi Possono entrare nel flusso sanguigno Ma questo esula delle mie competenze Quindi è una cosa di cui non parleremo I cosmetici sono cosmetici Sia che li comprati in profumeria Sia che li acquistati in farmacia I farmaci sono una vera e propria categoria a parte E hanno due legislazioni completamente diverse Come è giusto che sia Scherzavo? Le premesse sono tre E la terza riguarda l'acquisto di questi prodotti Ora, ci sono un sacco di farmacie Che tutti abbiamo sotto casa Nelle quali possiamo reperire la maggior parte di questi prodotti Alcuni brand magari non sono rivenduti in una farmacia Ma magari sono rivenduti in altre Ma in ogni caso sappiate che online Ci sono un paio di farmacie online Che a me piacciono tantissimo Che trovo abbiano dei prezzi favolosi Delle offerte incredibili E che siano molto convenienti Soprattutto se vi iscrivete alle newsletter Perché riceverete codici sconto E offerte particolari Questi due siti sono Top Farmacia E soprattutto Pharma E Che è il mio preferito in assoluto Quindi date un'occhiata a questi portali Se siete incuriosite da qualcuno di questi prodotti Perché secondo me hanno dei prezzi davvero super Parto ovviamente Non potrebbe essere altrimenti Dal mio brand di cosmetica Reperibile in farmacia Preferito tra tutti Codalie Lo sapete, non è una sorpresa per nessuno Eau de beauté Acqua profumata Rinitalizzante Illuminante Idratante Arricchita di oli essenziali Da spruzzare sul viso Per rinfrescare il make up Come se fosse un tonico Durante la skin care routine O in qualsiasi momento della giornata La amo Ha un buon profumo balsamico Non potrei davvero stare senza Altri prodotti codalie Per me fondamentali Sono crema mani crema piedi Uso la crema gourmand Man e unghie Per mani e unghie Da cent'anni La adoro Per me è la migliore Crema mani del mondo Questo è un tubetto nuovo Ma vi giuro che ne avrò terminate Almeno 15 Così come avrò terminato Almeno 15 Questa è la sedicesima Forse stasera la finisco Questa è mia Stop Di creme beauté de pied Entrambe sono fantastiche Perché fanno bene il loro lavoro Nutrono e idratano molto bene Ma non sono grasse Si assorbono in fretta E nonostante questo Rendono la pelle Molto più elastica Molto più morbida Molto più liscia Aiutando insomma Le parti più spesse Più secche della pelle A risultare più lisce Più morbide Io le adoro Dico da lì Adoro Ma da matti Non pensavo E invece è così La linea Vino Pure Che è quella destinata Alle pelli miste o grasse O comunque alle pelli impure Cosa mi piace di questa linea Mi piace il fatto che Nonostante sia targettizzata Per pelli miste o grasse Appunto È una linea favolosa Anche per tutti i tipi di pelle Anche per le pelli secche Il detergente Che ho quasi terminato È favoloso È in gel Ha un profumo balsamico Meraviglioso Così come gli altri prodotti Della linea Pulisce molto bene Ma non secca assolutamente Il siero ragazze È pazzesco Cioè guardate qua Questo è il mio secondo Mi piace tantissimo È sottile Leggerissimo Perfetto per l'estate Mi piace da matti Il tonico In realtà Che si chiama L'Ossion Purifiant Penette Non l'ho ancora mai provato Quindi non posso pronunciarmi Come vedete È ancora nuovo Forse l'ho provato Due o tre volte Per curiosità Ma non posso darvi Una review Mentre il Fluid Matifiant Perfetto Mi piace moltissimo Non per tutti i giorni Perché a me piace Un effetto bello Idratante sul viso Lui è un siero Una crema molto leggera Effetto matt Idratante Ma effetto matt Che a me piace molto Utilizzare Soltanto sulle zone centrali Del viso Quando è estate È una giornata molto piena Molto calda davanti E voglio essere sicura Che il mio trucco Durì tutto il giorno E che la pelle Non si lucidi Eccessivamente Ma nonostante questo Senza rischiare Che la mia pelle Sia secca Per quanto riguarda La linea Vino Perfect Ho qui due prodotti Ce n'è anche un terzo Che però non ho in uso Al momento L'ho lasciato di là Portate pazienza Allora ci sono Lo storico Siero Vino Perfect Serum Eclat Antitash Siero antimacchie E la crema notte Creme Nui Glicolic Antitash Alla quale si aggiunge La crema giorno Sempre antitash Sempre della stessa linea Vino Perfect Allora Il siero è uno dei prodotti Più famosi di Caudalie Io devo dire Che questo è il prodotto Del brand Che forse mi è piaciuto meno O meglio Ottimo siero Molto leggero Molto sottile Ottimo potere idratante Ottimo potere illuminante Ma a livello Proprio di antimacchie Per me Non vale molto Perché non ha sortito Nessun tipo di effetto Io ho delle macchie Molto Molto persistenti Molto scure Soffro anche di melasma Quindi Insomma Mi aspetto Che un prodotto Non faccia il suo lavoro La maggior parte Dei prodotti Non fanno il suo lavoro Su di me Ci sono anche Delle pomate Che rientrano Nella categoria farmaco Che non hanno funzionato Su di me Quindi Insomma Non lo prendo Come una delusione totale Sono io Che ho delle esigenze Piuttosto particolari Crema notte glicolica Contiene acido glicolico Quindi da usare Sempre la sera O d'inverno Oppure d'estate Ma applicando sempre La protezione solare Al mattino dopo Una crema piuttosto ricca Piuttosto densa Che esfolia superficialmente La pelle Lascia Bella liscia Luminosa E compatta La mattina Mi piace tantissimo Come mi piace tantissimo La crema giorno Della stessa linea Che ha una formula Più sottile E meno nutriente Di questa E fresca E leggera Un bell'effetto illuminante E secondo me È perfetta per l'estate Il flacone È identico Ho qui altri due sieri Il primo è Il vin active Serum anti read Activator de cla Siero illuminante Anti rughe È chiuso Non l'ho ancora mai provato Quindi non mi pronuncio Ma ho già terminato In passato Questo è nuovo Il vino source Serum s.o.s. Desalternam Questo è Un siero Molto leggero Fluido Sottilissimo Perfetto per l'estate Perfetto per le pelli Disidratate Perché ha proprio L'obiettivo Di andare A restituire Alla pelle L'idratazione Idra quindi Acqua Di cui ha bisogno E aiutare A trattenerla Nei tessuti Fantastico Lo metterò in uso Quando avrò terminato Il siero Che sto utilizzando Al momento Ho poi Quest'olio Che si chiama Vinactive Quindi della stessa Lina di questo siero Qui il denui Detox Questo è un olio Notturno Lui è chiuso Ma l'ho già terminato In passato Mi piace tantissimo È un olio Detossinante Io non credo Nel detossinante Per quanto riguarda I cosmetici Perché Cosa vuol dire Che toglie le tossine In che senso Cioè non Per me è una cosa Che Insomma Si esaurisce Nel puro marketing Però è un olio Fantastico Per rendere la pelle Nutrita Più elastica Più liscia E più morbida Mi piace Soprattutto durante l'inverno Non è particolarmente Grasso Unto Pesante Come olio È un olio Abbastanza sottile Che si assorbe Molto In fretta Ho poi Però anche questa Non l'ho utilizzata Insomma È chiusa La mousse Nettoyant Fleur de Vigne L'ho usata in passato È una mousse detergente Insomma Come ce ne sono mille altre Senza infami E senza lode Ecco Ho poi La mask Instant detox Una maschera All'argilla rosa Purificante Che non secca Assolutamente La pelle Rimuove l'impurità Dei pori Vedete proprio La macchiettina Di umido Di dove ci sono Di bagnato Dove ci sono i pori Sulla pelle Fa bene il suo lavoro Non desidrata Non secca la pelle E infine Ho da farvi vedere Questi due Questi sono new entry Però ragazzi Che buone Cioè Favolose Allora Li ho appena ricevuti Dal brand Scusate Non l'ho detto Io Collaboro con Codalie Nel senso che Questa non è In nessun modo Pubblicitata Ci sono Prodotti Che secondo me Sono super Prodotti Che secondo me Lo sono Un po' Meno Insomma Ecco Ve l'ho Ve l'ho appena detto Collaboro con loro Nel senso che Ricevo I loro prodotti Nuovi lanci Ecco Però È il brand Che ho acquistato Per più tempo In farmacia Perché secondo me Ha una qualità Davvero super Ho ricevuto La settimana scorsa Il gel doccia Soleil de Vigne E il profumo Soleil de Vigne O fresh Che mi piacciono Da matti Allora Sono Praticamente Due nuove Aggiunte Alla linea Già esistente De Vigne Ci sono Questi prodotti Della linea Tè de Vigne Fleur de Vigne Insomma Ce ne sono diversi Il gel doccia Devo dire Che ha un profumo Pazzesco Fantastico Per l'estate Perché ha proprio L'odore Di sole Di spiaggia Non ve lo saprei Spiegare In altro modo Mentre questo Ragazze Dio Che è buono Identica fragranza Di sole Di crema solare Una cosa Pazzesca E che mi piace Tantissimo Utilizzare Durante il giorno Lo sto applicando Tutte le mattine Da una decina Di giorni Mi hanno fatto Diversi complimenti Anche il mio fidanzato Piace Cosa non scontata Non mi dà Assolutamente Problemi Di olfatto Non mi dà Mal di testa Sapete che io Spesso ho questo Problema E vi giuro Vi prego Andate in farmacia Ad annusarlo Perché secondo me È stupendo Per l'estate È stupendo Un altro colosso Della cosmetica Da farmacia È la Roche-Posay I miei prodotti Preferiti Di la Roche-Posay Sono indubbiamente La crema E Faclar Duo Plus Che porca loca Non ho qui Da farvi vedere Perché non L'ho persa Cioè ne ho parlato Recentemente In un video Non la trovo più Quindi non ce l'ho Quei fisicamente Ma ve ne ho parlato Un milione di volte È un trattamento Molto fluido Dalla consistenza In crema gel Che si assorbe Molto velocemente Adatto a tutti I tipi di pelle È perfetto Per le pelli Impure Incrostate Da punti neri Imperfezioni Riesce a Sgonfiare Sfiammare E mandare via Più velocemente Queste imperfezioni E funziona A meraviglia Sia sulle imperfezioni Occasionali Oppure periodiche Insomma Che magari potete verificare In quel periodo del mese Ma anche per imperfezioni O per zone impure Un pochettino Più tenaci Che persistono Ovviamente Non parliamo di acne Perché quella è una patologia Vera e propria Che richiede Cure specifiche E attenzione Di uno specialista Però insomma Per problemi Di imperfezioni O impurità Provatela Perché è un portento Esiste anche La versione E faclar Non duo Ma a i A punto I punto Che è questa qui Che sarebbe un trattamento Spot Targetizzato Da applicare Soltanto Sulla singola imperfezione È sottile E trasparente Quindi lo potete applicare Anche sotto il trucco Insomma Non è una cremina bianca Una pastina bianca Che si vede Io non la trovo Dovrebbe essere più concentrata E più Mirata Rispetto alla duo Ma io non la trovo Così valida Quindi non mi sento Di consigliarvela Abbiamo poi Un prodotto Che chi mi segue Da tanto tempo Dai tempi del blog Ricorderà sicuramente Si tratta Della Seros Inc Sempre di Laura Sposè Che è Di base È un'acqua termale Io non credo Nelle acque termali Cioè Secondo me Non hanno tanto senso Cioè Trovo che su di me Non abbiano particolari benefici Piacevoli Perché rinfrescano Rendono il trucco Meno polveroso Danno una botta Di idratazione Ma preferisco Un altro tipo Di prodotti spray Che magari abbiano Acido ialuronico O altri ingredienti Insomma Benefici per la pelle Che non Acqua e minerali Ma ognuno Ai suoi gusti Questa È Dicevamo Di base È un'acqua termale Ma è arricchita di zinco Che ha un'azione Antibatterica E antinfiammatoria Quindi va benissimo Per le pelli Che vogliono essere Lenite Per le pelli Che vogliono essere Idratate Per le pelli Che vogliono essere Sfiammate O per le pelli Che di nuovo Hanno imperfezioni E vogliono purificare La zona Senza seccarla Per me è un prodotto Must Ne ho tre Nelle scorte Anni fa Non si trovava in Italia Ma si trovava all'estero Si trovava in Francia E ogni volta che andavo Ne compravo Pacchi e pacchi Perché per me Era un prodotto Veramente insostituibile Ho poi Diversi prodotti solari Da farvi vedere Allora Sempre di La Roche-Posay Ho questi tre Antelios Anti-Shine Invisible Fresh Mist Protezione 50 Antelios XL Fluid 50 Antelios AC Fluid Matte 30 Ne ho altri Di altri brand Che sono La Isdin Photo Ultra 100 Spot Prevent Questo è un altro brand Il brand Isdin Ho l'Iraq Suni Sim Suen Protector Io Quindi uno stick Per il contorno occhi Con protezione 50 Ho lo stick Zone sensibili Di Aven Che è un stick Trasparente Insomma da applicare Nelle zone Dove vogliamo Essere sicuri Che il sole Non ci bruci Non ci danneggi Ho lo spray Doposole Aftersun Di Rila Steel Che è un doposole Spray E ho altri due prodotti Che riguardano La Sfera Solare Ma non sono protettivi Che sono Questi Qui del brand Rougie Plus L'intensificatore Della bronzatura Viso e corpo E il siero Attivatore Della bronzatura Anti-age Per il viso Vi menziono Questi prodotti Così di fretta Perché Ho pubblicato Proprio l'altro giorno Proprio giovedì Un video Dedicato A tutti i prodotti Che riguardano La protezione solare Che possiedo Che vi linko qui sopra Nel caso in cui Non l'aveste ancora visto Nel quale parlo Nel dettaglio Anche di questi prodotti Dato che ho veramente Tanta roba Da farvi vedere Volevo evitare Di soffermarmi Anche su questi Perché altrimenti Facciamo veramente notte E vorrei evitare Quindi Date un'occhiata A quel video Se siete curiosi Insomma Se volete saperne di più Di questi prodotti Solari Reperibili in farmacia Per quanto riguarda Il brand Nuxe Non sorprenderà Nessuno Sentirmi parlare Del balsamo Labbra Ref de Miel Per me Questo balsamo Ricco Denso Cremoso Contenuto in questo Barattolino Che profuma Di miele E di arancia Candita Che non è che sia La cosa che io preferisco Al mondo Ma pazienza È un portento Cioè un prodotto Che io termino Con una velocità Pazzesca Non perché Si consumi velocemente Anzi Ma perché io lo applico Tutti i giorni Due volte al giorno Come ripara Nutre Si prende cura Delle labbra Secche Disidratate E rovinate Lui Per me Nessuno mai Ve ne ho parlato 8 milioni di volte E rimane Il mio balsamo Labbra preferito Soprattutto Per la notte Un altro prodotto Calt per me È la crema per capelli Fito 7 Questa è la versione Che contiene All'interno Estratti di 7 Piante Esiste anche La Fito 9 Che contiene Estratti di 9 Piante Che è più indicata Per i capelli Molto aridi O crespi Questa invece Per i capelli Da normali A secchi È una crema giorno Per capelli Estremamente fluida E sottile La faccio vedere Ogni volta in azione Perché la gente Non ci crede Allora questa È la crema Ok Vedete che è piuttosto Fluida Leggera Sottilissima Cosa dovete fare Dovete semplicemente Applicarla sui capelli Così In questo modo È una cosa che io faccio La mattina Ma potete farlo Alla sera Insomma Quando preferite Si insiste Sulle punte Che sono Quelle ovviamente Più secche Le parti più secche Del capello E si assorbe E si assorbe nel giro Di 7 secondi E i capelli Risultano Perfettamente Adesso io li ho Annotati Ma risultano Perfettamente Asciutti Lisci Morbidi Non per niente Unti Bagnati O appiccicatici Come si potrebbe pensare E per me È fantastica Perché proprio Mi permette di dare Una botta di idratazione Ai capelli Tutti i giorni Senza appesantirli Weleda Skin Food Questo è un tubetto Che sto strizzando Fino all'ultimo E questo invece È un flacone nuovo Notare come Il vecchio tubetto Fosse di Di metallo Mentre il nuovo Sia invece In plastica Cosa che io preferisco Mi dispiace molto Per l'ambiente Perché chiaramente La plastica inquina di più Però i prodotti Con il tubetto in metallo Sapete che poi Quando iniziate a strizzarlo E fa le pieghe Si forano Il prodotto comincia a uscire Deperisce Insomma è un vero spreco Di cosa si tratta? Questo è un balsamo Super denso Nutriente Corposo Anche un pochettino Un ticcio Che esiste Nella versione tradizionale O anche nella versione light Se preferite Insomma una versione Un pochettino più Più leggera E che vedete È proprio una pasta E che a me piace tantissimo Sui gomiti Sulle ginocchia Oppure sulle zone Della pelle Davvero secche Screpolate Anche sui piedi Lo potete Lo potete applicare Ha un profumo Di erbe Molto molto buono Che a me piace molto È un prodotto Che io non applico Durante il giorno Ma che applico alla sera È un prodotto Che tengo sul comodino E utilizzo molto spesso D'inverno Ma anche d'estate Soprattutto come dicevo Gomiti E ginocchia Che su di me Sono sempre secchi Ho la pelle molto spessa Lì Per me questo è un prodotto Davvero fondamentale Ed è un prodotto Molto simile Anche l'omeoplasmin Di Boiron Che di diverso Ha praticamente La consistenza Se la skin food È una pasta Questo è proprio Un balsamo Trasparente Più densino Un ticcio Anche questo E mi piace applicarlo Più o meno Insomma Mi faccio più o meno Lo stesso tipo di uso Li applico anche qui Durante l'inverno Quando ho queste brutte Screpolature E mi ci trovo molto bene Insomma va bene Proprio per la pelle Molto molto secca Un altro brand Di farmacia Che adoro È Bioderma In questo momento Non possiedo L'acqua micellare Bioderma Che ho acquistato Sicuramente uno dei prodotti Che ho acquistato Di più in tutta la mia vita Mi piacciono tantissimo Sia la versione Sensibio Quella con il tappo rosa Insomma la classica Per pelli sensibili Ma mi piace ancora di più La versione tappo azzurro Per pelli disidratate Secche disidratate Quella è la mia preferita Per me rimane L'acqua micellare Numero uno Adesso Utilizzo quella di Garnier Perché Essendo bifasica Scioglie meglio Il trucco occhi E quindi riesco a rimuovere Tutto più velocemente Ma se parliamo proprio Di acqua micellare Pura Nuda e cruda La Bioderma Rimane la prima E secondo me Insuperabile E quella La consiglio a tutti Questo è l'unico prodotto Bioderma Che ho al momento Si tratta del lato Derm With the douche Ultra nourishing Anti-irritazioni Questo è un olio doccia Per pelli sensibili Per pelli delicate Contiene pochissimi ingredienti Va bene per le pelli secche Molto secche Vedete è oleoso Ma non troppo Non è eccessivamente denso O grasso Si emulsiona facilmente Si sciacqua facilmente Ma lascia la pelle Bella liscia E morbida E mi piace da matti Lo sto usando da mesi E continuo a ricomprarlo In continuazione Dopo la doccia Quindi dopo aver usato L'olio doccia Di Bioderma Utilizzo la crema Oltra idratante Dermorilizema Del brand Relief Me l'ha consigliata Al dermatologo È una crema corpo Molto ricca In nutriente Che però Si assorbe A una velocità Sconcertante Non pensate A un burro corpo Che dovete spalmare Per otto ore Che si viene sudato E risudato Dalla pelle Per i tre giorni Successivi Questa nutre Benissimo la pelle Anche la pelle più secca Più disidratata Più Che tira Che rimane Veramente Sembra cuoio Però si assorbe Al volo Per me è un portento Lo sto utilizzando Dopo il sole Anche insomma In questo In questo periodo Ne ho già acquistati Penso tre flaconi Negli ultimi mesi E non posso Che consigliarvela Soprattutto se avete La pelle Molto sensibile E delicata Volete un prodotto Insomma Che non dia Nessun tipo di problema Perché è adatto Insomma anche alle pelli Con alcune problematiche Con gradi di sensibilità Particolari Insomma Ovviamente Nel caso di esigenze Specifiche O patologie Sentiamo il dermatologo Non fidiamoci di youtube Del brand Connettivina Che tra l'altro Ho scoperto essere Un brand di Padova Non lo sapevo Ho tre prodotti Allora Vi consiglio La connettivina sole Che ho qui Nella versione spray E qui invece Questa l'ho appena comprata Non l'ho ancora provata Ancora proprio Chiusa nella sua scatola La versione gel Eccola qua In tubetto Fantastica Per le irritazioni solari Quando siete un po' scottate Un po' irritate La pelle presenta Magari qualche Lieve eritema da sole Questa Viene spruzzata Oppure stesa Sulla pelle Si asciuga E vi aiuterà a sbollire Più in fretta La scottatura Ecco Ovviamente Insomma Partiamo di scottature Di portata lieve Niente di Niente di troppo serio Ecco Io ho usato per secoli Il foil sole spray Che ormai Non è più inventato Da un paio d'anni Secondo me È una perdita gravissima Per l'umanità Perché quello In caso di scottature Era veramente un portento Cioè te lo mettevi due volte E la pelle era perfetta Questa è buona Non efficace Tanto quanto il foil Però fa molto bene Il suo lavoro Io quando vado in vacanza Ne ho sempre una portata Perché Per me è fondamentale Metto sempre la crema Ma è la linetta Di scottatura Oppure la pelle Che tira un po' più rossa Capita sempre Ho qui invece Lo stick Connettivina stick labbra Con acido ialuronico 0,2% Che mi è stato consigliato Da tantissime di voi Sotto un video Mi pare il video Che avevo filmato Quest'inverno Dedicato ai prodotti preferiti Per l'inverno Devo dire che Non sparatemi Non l'ho trovato Tutto questo granché Come mi aspettavo Vi ringrazio tantissimo Per il consiglio Perché io sono sempre aperta A provare più cose possibili Sono curiosa Lo sapete Però non l'ho trovato Particolarmente capace Di idratare O riparare le mie labbra Però Però L'ho ritirato fuori Di recente Perché Ho fatto un trattamento Antibiotico Piuttosto lungo E Avevo le labbra Distrutte Dopo Una giornata Di esposizione al sole Cioè Nonostante Avessi messo L'HspF30 E nonostante Nel corso della giornata Sulle labbra Sentissi un po' tirare Mi fossi messa Anche lo stick 50 Le mie labbra A fine giornata Erano distrutte Cioè Proprio distrutte Dal sole Sappiamo che il sole Non va d'accordo Con gli antibiotici O meglio Gli antibiotici Non vanno d'accordo Con il sole Ho sottovalutato Un po' la cosa Per quanto riguarda Le labbra Anche se sono stata Attenta al sole Proprio lì Mi si sono veramente Rovinate E Ho voluto utilizzare Una cosa Più semplice Possibile Per rimetterle in sesto Ci ho messo Una settimana Perché ci ho messo Una settimana Però Lui ha fatto Molto bene Il suo lavoro Quindi Non mi ci sono trovata bene Stranamente nel caso In cui La mia pelle Avesse screpolature O tagli Dovuti al freddo Ma nel caso Di Insomma Irritazione solare Sulle labbra Con questa Io mi sono trovata Veramente bene Quindi ve lo consiglio Per questo tipo Di problematiche Spero che non vi capiti Però Sappiate che a me È stato molto utile Ho poi Da farvi vedere Due prodotti Compid Molto poco interessanti Ma Sono sicura Che vi potranno Essere utili Allora Questi sono I Compid Cerotti per vesciche Conoscete tutti Questa confezione Si aprono In questo modo La confezione Comodissima Da tenere in borsa E ci sono Qui dentro Questi cerotti Io ne ho quattro Ma la confezione Ne ha cinque Se non ricordo male Questi cinque cerotti Da applicare Sul tallone Sul retro Del piede Quando si forma Una vescica A causa delle scarpe Insomma A causa della frizione Con le scarpe Camminando E bla 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 Favolosi Per me Questi sono L'unica cosa Che mi permette Di continuare A camminare O di uscire Di casa Indossando le scarpe Se mi si forma Una vescica Per me Sono fondamentali Li ho sempre In borsa Sia durante l'inverno Che durante L'estate Della stessa linea Fa parte Anche questo stick Che si chiama Compete Anti blister Stick Stick anti vesciche Questo praticamente Come se fosse un lip balm È uno stick Di questo balsamo Bianco Ma in realtà È trasparente Che non rovina Le scarpe Assolutamente Da applicare Sulle zone del piede Dove sentiamo Attrito Sfregamento Pelle Scarpe Per evitare Appunto Che La scarpa Vada a strisciare Troppo la pelle A causare Una vescica Quindi questo È uno stick Preventivo E questo invece È una toppa Riparatrice Da applicare Sopra la vescica Per continuare A vivere Finché non Finché non siete guarite L'ultimissimo Prodotto Che ho qui Invece È un altro Prodotto Del quale Mi avete sentito Parlare Ottomila volte Soprattutto Se siete Storiche Si tratta Del lungueto Nasale Rino Paidolo Questo È un Balsamo Denso Un po' Picicosetto Molto Emoliente Molto Nutriente Leggermente Balsamico Nulla di Fastidioso Da applicare Attorno al naso Quando avete Il raffreddore Quando avete Il naso Screpolato E In modo Incredibile Riesce A riparare La pelle Oppure Riparare La pelle Dalle Irritazioni Dalle Screpolature Dai Microtaglietti Dovuti Magari A Un utilizzo Eccessivo Dei fazzoletti Quando siete Raffreddate Per capirci E allo stesso Tempo A prevenire La formazione Di queste Irritazioni Se siete Appena Ammalate Avete Appena Penso Il raffreddore Volete Evitare Che Insomma La pelle Del vostro Naso Vada A Farsi Benedire Quindi Sia Preventivo Che curativo Per me È Un must Lo Usa Lo Usava Mia Mamma Su Me Mie Sorelle Quando eravamo Piccole Quindi Trovatelo Perché È Una Bomba Ragazze Questo è Quanto Questi erano Tutti i prodotti Che avevo Da farvi Vedere Sono Tantissimi Ci metterò Due ore A compilare Infobox Ma Sono Sicura Che Insomma Ne varrà La pena Perché Sono Prodotti Davvero Ottimi E Io Vi Ricordo Nel caso In cui Non L'aveste Ancora Fatto Che Qui C'è Un bel Bottone Con La Mia Faccia Da Cliccare Per Iscrivervi Al Canale E Vi Ricordo Anche Che Sullo Schermo Trovate Alcuni Dei Vecchi Video Nel caso Vi Andasse Di Passare Assieme A me Un Altro Po Di Tempo Vi mando Un Bacione Grandissimo Vi